ben ritrovati al legomastro costruttore siamo tornati in un nuovo video di legomarvera di legostarwall 7 prima di iniziare si è sbloccato un mondo una specie di mappa mondo con scritto un po alla riscossa una cosa del genere boh non so esattamente come sia possibile perchè non abbiamo toccato nulla di la sinistra avanti in questo posto vediamo un po che succede allora rampino forse vediamo un attimo allora facciamo così così no ho sbagliato presto uh meno male meno ci sarà un pochino una parte da tagliare solo usiamo chubecca che bello lo chiami chubecca o chubecca non lo so un mix è bello rispetto al primo che era una cosa abbastanza oh si vai vai buttati qual è quello che hai sbloccato prima non lo so non c'è qua questo lo fa si ci sono le freccine base star kill capitolo 8 il sabotaggio della star killer quella morte nera brutta gioco attiva bene allora andiamo a vedere capitolo 8 sabotaggio della star killer lego dimension anche qui si sembra davvero lego dimension come mai ha questo vestito strano a un solo sarà freddo ah i biscotti wookie wookie ah c'è la neve che bello che bello gli alberi fatti così meravigliosi ah poverino oh che grossa gigantesca bello che cosa con la neve andiamo un po' come salta che cos'è sto salto queste strane parti il tunnel di allagamento è oltre quella questa entraremo da là questi droidi bisognerà spararli sicuro penso si no allora sto pensando se usare il rampino su quello o no questo mi ispira no il rampino non mi ispira allora proviamo qua si riesce a tagliare lì si ok vediamo un po' come va la come va questo sarà tagliato ma forse bisogna spaccare anche l'altro tizio esatto il 747 è da quella ma dietro quella grande roccia secondo me bisogna usare il rampino prova a esplora un minimo vai se vedevi i pezzi eh eh se vedi uh lì hai spaccato qualcosa ho visto è un po' vabbè io provo un rampino ma chi se ne frega c'è qualcosa che possiamo usare sai cosa costruire ecco ok quindi costruiamo questo coso è una trivella ci salti tu o ci salto io no non è una trivella è un raggio laser aspetta forse devo restarci sotto raggio laser a quanto si i cubetti carini beh però vi useranno solo perché più adesso ciubi devi usare sembra un po' il passo di carla adesso c'è Salman si che fa la vera lì è la quadratura perché ti fa venire le vertigini si carina non stai a spaccare roba la spacchiamo in privato magari non giochiamo il mio serve il film film filotete devo tentare di ignorare devo tentare di ignorare questi pizzi la tentazione è talmaico no 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 scaletta sali scicoso beh non penso che salga su ciubi perché si mette lì sale sulla schiena allora no no giusto boom ok ecco Salman si è vero la magia di Salman ok ma a me sembra una voce di silenzio si cos'è? ah forse scivoli spero che il tuo cluster sia carico ricorda non devi aspettare mi piace o non mi piace provaci si è un multicostruzione io farei a sinistra un pazzo di neve come non usare? devi saltarci no ma c'era scritto là tipo ne lo so lo sposta tipo ecco 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 un cubo rosso vabbè prendi le monetine il cubo rosso potremmo prenderlo in teoria magari un per due qualcosa o magari no non lo so io non lo prenderei no lo faccio due ricerche no no vabbè non prendiamo dai vabbè dobbiamo farlo per vuole vabbè ok semmai lo andiamo a prendere per conto nostro no lo andiamo a prendere per conto nostro si neva un cannone cos'è? è un penso che sia una specie di scanner qualcosa del genere si ma c'è io ahhh ah spara palle di neve grande fantastico ehm no si 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 vai 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 è una calamita gigante si ok adesso si deve sparare lì però prima di sparare là dobbiamo arrivare prendiamo qualche momento passi attraverso la recezione ci sono ancora i vedi eh fassore il solletico si i punti non mi piacciono fassore il solletico lo fanno apposta schifosi allora vediamo se fassore il solletico ok attiviamo sto strano portellone questo è il livello già mi sta piacendo si si è carino non è male no ci vuole lui ah giusto con la spada laser come isa vostra cos'era quel coso? era una di quei specie di draghetti dove si è fermato qua ah adesso si si passa di sopra si fa si uccidono i nemici e si caglia si uccidono quei poveracci che poveracci ce l'ho preso in giro si bianco c'è il rosso che faccia la tua spada oh una vita ci serviva si ma se prendi un'altra no non facciamo la vita ah qui devo fare ah si ok devo tagliare sto coso ok ecco che il portellone si è attivato troppo bello quando esplodono le cose ci sono i pezzettini di Lego grazie monetizzarlo ottimo un albero di Natale forse ma mi sa che non è lì l'ultimo modo che stai l'anno si ha portato gli accoppiatori che è l'energia per impedirci di usarlo bello però mi vale di costruirlo no vabbè tanto gli altri due sono fuori sono sotto lì e appunto non lo abbiamo toccato e non lo sapete come se lo sei e vabbè vabbè e poi ci tocca tagliarlo vabbè non dura niente ok vai lo devo collegare anche dall'altra parte c'è una cosa anche dall'altra parte? no allora cos'è quel cosino che chiarino si sembra tipo quelli di Jurassic World film boh si penso no c'era la faccia di film ah ok no ho sbagliato ho chiamato ho chiamato ho chiamato ho chiamato ho chiamato ok soldato artico suppongo che si chiami quel coso monetina cosa è una scelta un solo si si tutti seguono l'alpha un solo oh che carino un pazzo di neve con Darth Fener o Veiler o Veiler come si chiama monetine si ok bene andiamo di qua sono molto furtivi una grossa carota proprio anche l'esercito i caccia ci sono sai come sei buttato fin c'ho la maschera come mai non lo so boh non lo so manco io non mi ricordo nessuno vabbè per metterci qualcuno attenzione no il cannone povero essere davvero poverino penso ah no qua ci vuole ciubica quindi io per forza andare o a meno che anche ciubica non possa andare nella cosa oppure vai qua sotto a sinistra no non vuoi no sì che puoi no che non sì che puoi vabbè qua c'era uno scivolo non li uccise spalla laser wow il per due questo coso mi sa che devo metterlo là e quell'altro mi sa che non devo costruirlo no no eh meno male che scompaiono dopo un po' sennò quello è un altro albero di natale o qualcosa di simile non penso comunque se ci fosse un babbo natale in questo gioco magari c'è non lo so non penso grazie grazie sempre grazie adesso però serve ciube salgo dal tubo come si muove ah mi sbaglio sempre sradicato tutto non l'avrei voluto fare ma ed è stato utile sembra ogni tanto mini kit ma non è grande gira in modo che non ci sia più il controllo bravo bravo qualsiasi cosa è un aero così perché lui è qui non è riuscito a salire evidentemente o è caduto per sbaglio l'avrà spinto giù qualcuno perfetto scanner punto debole punto debole questo individuo ai punti deboli forse ok ok acqua che si ghiaccio si 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 ancora qualcosa ragazzo ok ok l'altro draghetto che vola questo livello è bello carino si si un po' silenzioso ma non si può parlare a se uuuuh oddio però cos'è un estintore si è un estintore certo poi c'è la padella il brun c'è ne è ancora uno c'è la monetina blu a sinistra per due non è andata esatto non è andata non sono come te che vai ovunque mi compaiono per sbaglio cavolo di ubi d'oro spariamo un po' a caso devo capire cosa bisogna fare lì c'era una qualche letterina già dove? lettera un tasto vedi? ah una qualche letterina ci serve finnotete che è un filo no no è squale questa è una cosa la tagliarei solo perché non la vuoi fare anzi no lasciamo la giusta quindi abbiamo sbloccato sto coso e andiamo avanti ah un altro di questi droidi ok suicidati ok multicostruzioni beh direi che prima da una parte poi dall'altra no meno male che non lo devo fare io sta cosa ok ora anche la cosa y un altro notizio che sarà bo chubeccano penso sia un po' più firma ma si oh ma che è non so non riesco a capire cosa sia è una scala lascia perdere ho indovinato vedi te l'ha detto lascia perdere si butta tranquillo ah qui c'è il generale quel tizio lì si generale Ax 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 ma qui è che hanno solo incontrato il figlio no no più avanti guarda come sono lucidi che carini servizi igienici servizi igienici ma come sai disabilitare i discoli non lo so sono qui per cercare portano su di noi l'intera galassia portano su di noi sono qualcosa ci viene servizi igienici come è così che funziona la forza guarda lì come è luccicoso è un po' plasticoso ah il capitano lo so forse qui che incontrerò una cosa ah tipo prendono quella lì in ostaggio cosa del genere più o meno per mettere un incestino spaventare spaventare dai siamo quasi a vero gelio qualsiasi cosa sia si però prendi le soprattutto nel tragitto magari monettine si dai monettine sono utili ma guarda qua quante ce ne sono senza che tu spacchi niente proprio per i pigri ma guarda queste queste piovono monete il nuovo film io la leggo piovono monete qui ci vorrà però queste monete violenta no no qua non ci vuole non funziona devo giustare un casco d'assaltatore passare perché ci vede davvero ucciso no di solitario erano più violenti che sono stati quindi in grado si lanciavano le bombe infatti puoi prendere monetini quelle lì attorno ok vediamo un po' semplice multivostruzione no lì no l'ha appena spacca no 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 non è vero sdradicalo cattiveria ok prima bisogna usare quei cosi far salire un solo e fin e poi tirare quella lì di qua ma si è uguale prima una poi un altro che cosa tutto tremolante oddio no ok no lo so dammi due minuti no non è un solo ci vuole solo lui qui si è bb8 non c'è una bomba monetine e adesso c'è qualcosa da fare da wow credevo che fosse un punto cosa è successo che sono caduto non lo so però adesso devi far tutto lo so ma non lo capire perché sono caduto no perché sei andato in un'altra stanza sei uscito penso quella stanzina lì dove c'era il clone portava adesso non ok dai ci riesco oh accipichi vabbè pazienza abbiamo minuti eh io non mi sono lamentato se tu che ti stai di nuovo la bomba monettina d'oro ma chi se ne frega della monettina d'oro è d'oro che se ne frega della monettina d'oro ma sei serio facciamo subito questo è bellissimo quando andare a scavare con la spada laser ah questi sono classici sono più muscolosi rispetto a come mi stai cedendo questo non lo avevo usato che stai cedendo sto tentando di usare la spada laser ma aspetta attento vero jedi evviva un trampolino cosa serve un trampolino che bella con la piscina non mi piace non serve una mazza no non penso che non serve a niente però un altro ma questo è per il casco serve cosa ah si possono selezionare caschi se volessi scegliere questo cosa è un cappello un cappello da messicano che bello perdiamo tornate ai vecchi tenti eccoci qui i sistemi di sicurezza sono proprio stupidi si si bene un clore con una spada laser quindi oh bella ste combo come ci sa ok troppo lucido bene no fine è stato ucciso mi sa che c'è quel punto ridato rischio a punture la testa a sinistra è troppo riparata ok si addio boom subito ok ma meglio meglio c'è anche quel droide lì sopra che rompe le scatole ok dai ne manca no ne hai ucciso uno non vedendo il pubo 8 8 adesso ce ne sono altri che compagno per colpa di sto droide o un casino di inquadratura vabbè vedi i mirini i quadri è che ci metto un po' da ammazzarci questo si oddio si per ammazzare quelli là oh vai si adesso serve solo serve solo punti deboli sarà ben risulta li croonerà sopra ok vai 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 no aiuto non vi no niente ti rilasciano film vai vai perfetto tiriamo sto ponte muore poi ci sono i topi i topi droidi uuu obiettivo sbloccato un po' schiro sbloccato una medaglia si ho ucciso un uccidili il coso uccidili senza pietà come le scimmialate uccidili sono più odiosi questi delle scimmialate scimmialate ancora non ti ammazzare prendiremo i cuori cosa mi servono i cuori perché noi siamo viziati con l'invincibilità ma poi se muori le monettine le perdi vai ciub ottimo ciub ok guarda è troppo lucida per capirne nella forma non c'è nulla da distruggere quindi penso che saranno i cosi penso che devi distruggere anche quel droide penso che tu debba distruggere anche il droide esattamente esattamente obiettivo sbloccato spara l'esto dopo è finita vai con cattiveria ecco il fuoco non c'è nulla da distruggere anche la base di sparare come se ne ho sparato vermi maledeti vermi maledetti con che cattive oddio vai no ah no non ha i mirini ancora Non puoi sparare Attento Chube Spara prima i cloni Attento Ok Spara la barriera Gli uccide subito Chube Sì, allora è più lento Ma li uccide subito Toggiare tipo Mas Che era veloce ma prima che ne ammazzava uno Mas Dai Ok Papa Non mi prendi Tento al sicuro Al sicuro Sì, non lo so, al missile Razzetto Razzetto Buonissime Muori Ah, è buon pezzo Ok Comunce alla parola di feste Chube Ok, appena la chube Ok, appena la chube Mi chiamo Mi chiamo Finna E comando io Ora comando io Fa smart Fammi Fammi Non è Non sono d'accordo Ci sarà anche la parte in volo Punto di domanda Non penso Abbassali Abbassali Sennò c'è chube che ti Ti fa male Ti fa male Ti fa male Ti fa male Il livello completato Il livello completato Sblocato Un decino d'oro sblocato Ok Quindi Siamo a 550.000 monete Finalmente Un pochino Di più Sì Snowspeeder Bikes Snowspeeder Del primo Del microfine E basta Un pochino Vediamo un attimo Puoi provare Un solo Buzzer Starkiller R3A2 Chi è? FN200 Ciao Soldato artico Assaltatore Idromassaggio Pilota di Tide Delle forze speciali MSE E basta Guarda già Come al solito Ogni volta Sabotaggio Non mi riuscola Guai sul tavolo Guai sul tavolo Ah Guai sul tavolo Continua la storia E dove ci troveremo? Su Dakar Siamo tornati su Dakar? No Dakar non ci siamo mai stati Ah no? No Siamo stati su Takodana Su Jakku Ah Takodana Su Dakar Bicar Veramente Ah no Sì che ci sono stati Ah è la base Per cosa? Dai 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 Sì per forza Si va un po' a sparare Con le Con gli X-Wing Gli cosa sono Alla X Facciamo caso Bella la base Sì molto Quindi qui chi abbiamo Vediamo un po' Podameron tutta da pilota E Capitano Panacano Snap Wexley Ok Con Snap Wexley E Podameron Vediamo un arrivederci Dalle comandose costruttore Seguiteci anche su questa serie Su tutte le altre Che portiamo Tutti i giorni Sul canale Qualsiasi serie sia Seguitela Anche Tutti Uh Anche se si tratta di Jurassic World Che voglio dire Eh Diamo un arrivederci Dalle comandose costruttore Ci vediamo al prossimo video A presto Ciao Ok Ciao 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 Grazie a tutti.